Grazie per la vostra accoglienza. Mi chiedo però se vado oltre la commozione. Questo entusiasmo vostro mi colpisce molto in profondo. Voi, e quanto dico, si applica un po' a tutti i giovani come voi, parlerò soprattutto ai giovani in questo momento. Voi vivete la politica come ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione e soprattutto la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite. Ecco perché questo vostro entusiasmo oggi e questa accoglienza mi colpiscono molto. Voi siete la speranza della politica.